bella guaiù bentornati nel mio canale siamo qui oggi per fare la reaction juventus napoli si è parlato tanto di questa partita oggi si gioca per fortuna partita secondo me una delle più importanti della stagione perché con questa vittoria ci portiamo ad un passo dalla champions non me la voglio stracciare noi ci vediamo in match ragazzi io sono una persona sportiva infatti maglia del napoli e sciarpa della juve onesto io dirò mamma mia che sei mangiato la juve mamma mia no però non possiamo incomincerà a fare questo ma tu non te li mangi questi diri no loro due fanno la differenza mamma mia sti diri mamma mia fa sembri sta sovrapposissimo eh sì mamma mia io non lo so ma questi si svegliano tutti con il napo ragazzi è finito il primo tempo napoli sta giocando che abbiamo preso un gullo per per la qualità di chi speriamo bene secondo lei vai di lorenzo dai dai mamma 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 mia ragazzi mamma mia i bici non mi fanno mamma 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 mia, bravo, bravo, ma mamma mia, buffo, no, e dai, cioè, ma questo resuscita dai morti, mamma mia. Resuscita anche i morti dopo tre mesi questo segno, eh, pure di più, eh. Maia, quindi. Oh, calcio di rigore. Siamo calmi perché noi non abbiamo esperienza con i rigori, eh. Sì, 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 sì. Ragazzi, appena finito il match, una partita bellissima, non si può mettere in dubbio. C'era un rigore al primo tempo per la Juve e per il Napoli. Non l'hanno dato e, che dire, la Juve ha fatto la differenza, la qualità di Chiesa, di Ronaldo. E hanno preparato bene la partita. Il Napoli mi è piaciuto, nonostante la sconfitta. Speriamo bene in campionato che noi ci riprendiamo da questa sconfitta perché è dura. Noi ci becchiamo ad un prossimo video, bella ragazzi. Comunque vorrei aggiungere una cosa. Abbiamo fatto resuscitare i morti. I morti! Cioè, Di Bale era da tre mesi, non giocava. L'abbiamo fatto segnare. Chiudo con questo. Arrivederci.